Il Comando Carabinieri per la tutela della salute d'intesa con il Ministero ha realizzato una campagna di controlli a livello nazionale per verificare i servizi di ristorazione e imprese di catering che sono assegnatari della gestione delle menze presso gli istituti scolastici. In tutta Italia i NAS hanno controllato 1.058 aziende di ristorazione collettiva operanti all'interno delle menze scolastiche e di queste una su tre è risultata irregolare. 482 le violazioni individuate con sanzioni per 240.000 euro. Sono state chiuse 9 cucine e sequestrate oltre 700 kg di derrate alimentari. In particolare i NAS di Napoli hanno disposto la sospensione dell'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande presso il punto ristoro che operava all'interno di un liceo classico di Napoli dove sono state riscontrate pessime condizioni igieniche. 50 kg di prodotti alimentari sono stati posti sotto sequestro. L'attività ispettiva poi è stata estesa al laboratorio artigianale di produzione che riforniva i prodotti dolciari, ubicato sempre a Napoli, dove sono state riscontrate altre gravissime carenze igienico-sanitarie e strutturali. Per cui è stata disposta la sospensione dell'attività di questo laboratorio e sono stati sottoposti a sequestro ulteriori 400 kg di materie prime e semilavorati, contestate violazioni amministrative per complessivi 7.500 euro.